E allora, Gegè, dov'è? Tesoro, gira da destra, a destra. Sanno queste due? Sì, sì, gira qua. E fermati subito perché c'è altro, vedi? Fermati. Sì. Oddio! Pazzesco! Crudo! Ma guarda! Guarda questo pretino come mi deve rovinare la giornata oggi! Vieni! Oh Gesù, guarda, guarda! Amore, ci sei fatta niente? Un po' la frusta! Vabbè, non mi parlare di amore adesso! Scusate, scusate! Ma dico, stiamo scherzando! Perfettamente ragione, mi sono distratto, avete le femmine? Adesso ce ne sono andate! Ma a me non mi interessano le ragazze, guarda che stanno le ragazze! Non lo so, che dà! Ma ti rendi conto? Interagisci, interagisci, interagisci! Manteniamo la calma, manteniamo la calma! Manteniamo la calma! Adesso risolviamo tutto! Come, come? Senza metto in mezzo l'assicurazione! Ecco, se no, oddio, va via! Va via l'ire di Dio, ecco! Faccio una cosmo, vi do 100 euro e hai dato la gestione, ma che ha spesso i mille! Hai sentito, Gegé? No! 100 euro! Non l'ha caricato! Ma stiamo scherzando, non ne parliamo proprio! Non ne parliamo proprio, scusate! Là, sta tutto sfondato! Eh, sfondato, che po', non c'è qualcuno, qualche graffetto e dai! Ma non lo so, ti sei reso conto del danno! Vabbè, vi vengo incontro, facciamo 150, vabbè! Gegé, hai sentito? Non sento! 150 euro! Madonna, è scesa l'arca! Ma non ci vuole molto di più, ma che scherzi! Non c'è 50 euro, basta! Dio santo! Eh, c'è così! E ora, non esageriamo, eh! Vabbè, facciamo 200 e basta! Non se ne parla più! Gegé, hai sentito? Non sento! 200 euro! Ancora la caricatura! Ma non ci siamo proprio! Vabbè, non ci siamo proprio, non esageriamo qua, eh! Che c'è questo che non era proprio seppurì, eh! Facciamo 250 e chiudiamola qua! E avanti! Attenti giovani qua, tra danno, paura e ritardo, ce ne vogliono almeno il doppio, chiaro? Oh, ma che doppio e doppio? Ma che stiamo a scherzando? Che ora qua, se ne andiamo avanti ancora così, vi faccio un culo così! Gegé? Sì? Scendi, ci siamo messi d'accordo! Ho sentito! Che hai appena detto? Che cosa ho detto? Per noi va bene! Ma che è il culo? Vi fa tutto il culo! No! Cosa lo è? Vabbè! L'hai detto! L'hai detto! L'hai detto! L'hai detto!